Un buon Pescara, un ottimo risultato, frutto del gioco e dell'orgoglio di questa squadra visto la contestazione della curva che non si è presentata oggi allo stadio. Vabbè non solo oggi, è dal tempo che non vengono o vengono sui laterali per nascondersi. Io penso che la gente sia divertita oggi, è normale che noi contro Milan abbiamo sofferto ma abbiamo sempre lottato, abbiamo cercato di fare qualcosa di positivo e ogni tanto ci è riuscito. Abbiamo cominciato a vedere giovani da sperimentare e da provare in vista della prossima stagione, tipo Koulibaly classe 99. Ma io non lo faccio per provare per la prossima stagione, sono convinto che in questo momento ci può dare più di quelli che stanno fuori attualmente. Però spero che anche quelli che stanno fuori mi fanno vedere che possano fare il calcio che stiamo provando a fare. Studio. Ecco Sdenek, a proposito di Koulibaly, questo ragazzo è stato paragonato a nomi molto molto importanti, ovviamente i paragoni in questi casi sono spesso inopportuni, però ha davvero le grandissime qualità che gli vengono accreditate. Lei che è un allenatore bravissimo nello scovare e nel valorizzare i giovani talenti. Questo ragazzo ha qualità, poi per paragonarlo ai giocatori importanti penso che è ancora lontano. Però io lo faccio giocare perché è un ragazzo che non ha mai giocato a calcio, quindi non ha vizi dei giocatori che hanno già fatto certi campionati. A me è più facile plasmare uno così, visto che ha delle qualità. E se ci dici di fare due cose, lui fa due cose. Oggi ha fatto molto bene il primo tempo, secondo già visto che il primo tempo ha lavorato per due, già è calato un po'. Però ha tempo davanti e spero che ci seguirà nel futuro. Per chi Zeman non conoscesse bene la storia di Coulibaly, ricordiamo che è un ragazzo che è arrivato in Italia su un barcone, che era in una situazione di immigrazione del nostro paese, su cui tanto si parla e si discute, e poi è stato scoperto al calcio. Per questo che Zeman dice è in qualche modo un ragazzo da plasmare, perché non ha mai giocato prima. Quindi Zeman è una storia bella nella storia bella, direi. Ogni tanto quando il calcio ci regala queste cose, è giusto ricordarle ai nostri telespettatori e sottolinearle. Speriamo che dura, sì. Grazie. Con lei sì, con lei sì.